Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con fantasiastore.it dove se inserirete il codice ARCONT del crogiolo 19 riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale oggi Breaking News ed è per questo che non vi ho dato il benvenuto con il mio splendido viso. Perché Breaking News? Perché il GenCon che si tiene ad Indianapolis, nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti, dal 1 al 4 agosto, quindi se magari siete lì nei paraggi, fateci un salto, magari mi dite com'è, hanno annunciato il nuovo set di Keyforge. Infatti mi trovo sul sito dell'Asmodi per andare a leggere che cosa l'Asmodi avrà in servo per noi in questo nuovo set. Non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, andiamo subito a leggere l'articolo. Mondi in collisione, in arrivo un nuovo set di Keyforge. Un anno fa Keyforge presentò a tutto il mondo un nuovo tipo di gioco, dove ogni mazzo è unico e tutti hanno la possibilità di diventare campioni. Il design visionario di Richard Garfield aprì le porte ad un mondo di infinite diversità, il crogiolo, in cui il ruolo dei giocatori era quello di impersonare i possenti arconti alla guida di tre grandi case del pianeta, in una competizione tattica di ingegno e forza di volontà. La vittoria garantiva agli arconti la possibilità di accedere al potere e alla conoscenza suprema e offriva loro la possibilità di ascendere oltre questo piano per scoprire cosa le attende al di là del mondo conosciuto. Siane il richiamo degli arconti che nell'era dell'ascensione avete avuto modo di esplorare sette specifiche case del crogiolo, imparare le loro caratteristiche chiave, i loro stili di gioco e i modi in cui interagiscono con le altre case per scoprire le sinergie racchiuse in ogni mazzo al conte unico. Ma proprio quando pensavate di conoscere il crogiolo, gli ingegnosi architetti hanno alterato ancora una volta la sua composizione. Due nuove case si uniscono alla lotta e il mondo non sarà mai più lo stesso. Asmod Italia è orgogliosa di annunciare la futura pubblicazione di Mondi in Collisione, il terzo set di Keyforge. Scoprite un nuovo lato del crogiolo in Mondi in Collisione, Come gli altri set di Keyforge, Mondi in Collisione si affianca al richiamo degli arconti e l'era dell'ascensione. Non è né il loro sostituto né il loro seguito. Non è necessario partire con il richiamo degli arconti per poter arrivare a Mondi in Collisione e i mazzi arconti di ogni set sono parimenti equilibrati. Quindi non avrete bisogno di passare ai mazzi arconti di Mondi in Collisione per rimanere competitivi. Siete tuttavia invitati a proseguire la vostra esplorazione del pianeta con una nuova riserva di 405 carte in cui le case dei precedenti set di Keyforge si mescolano a quelle nuove e due case nuove di Zecca entrano in gioco. Mondi in Collisione mette in panchina Marte Sanctum per lasciare il posto alla Repubblica Sauriana e alla Grande Federazione Stellare. Ma questo non significa che le due precedenti case siano uscite definitivamente dal gioco. Il crogiolo cambia e si evolve in continuazione e quelle amate case avranno la possibilità di ritornare nei set futuri. La Repubblica Sauriana, un impero vecchio di milioni di anni, è probabilmente la più antica cultura presente sul crogiolo. Sebbene siano ascesi e caduti più volte nel corso della loro lunga storia, i sauriani sono sopravvissuti e hanno prosperato da un'epoca all'altra. Sotto la guida del saggio Saurus Rex, primus inter pares del senato sauriano, essi vivono a fianco degli altri popoli del crogiolo, i quali rappresentano un fulgido esempio di ciò che il partito politico dell'Egemonia definisce essere inferiori. C'è chi dice che la Repubblica sia in declino, ma altri sostengono che abbia semplicemente superato la sua fase bellicosa ed espansionistica. Le tribù della Repubblica Sauriana fanno risalire le loro origini ai dinosauri introdotti sul crogiolo circa 65 milioni di anni fa. Anche se esistono considerevoli varianti tra le tribù e anche all'interno delle tribù stesse, i sauriani tendono a essere creature grandi e fisicamente imponenti, che perfino i giganti Brobna raffronterebbero in combattimento solo dopo averci pensato due volte. Soprattutto, essi vanno fieri del loro dibattiti filosofici guidati da menti geniali come il filosofaurus e di tecnologie talmente avanzate da essere scambiate per magia dalle altre civiltà. A contrapporsi alla longeva Repubblica Sauriana, si fa avanti quello che è forse l'arrivo più recente sul crogiolo, la Grande Federazione Stellare. Nel corso della sua costante missione esplorativa, l'equipaggio della SAV Quantum ha attraversato un campo di energia anomalo ed è precipitato sul crogiolo. Nonostante questo contrattempo, gli scienziati, gli esploratori e il piccolo contingente della Grande Federazione Stellare restano fedeli alla sua missione, pronti ad andare coraggiosamente dove nessun uomo, donna, asessuato o essere di altro sesso è mai giunto prima. La Federazione Stellare ha trascorso decenni a esplorare la galassia, invitando dozzine di sistemi stellari ad aderire a questa pacifica e democratica federazione. Dopo lo schianto sul crogiolo, la Federazione ha costruito una piccola città dove la loro comunità poliglotta e multiraziale, composta dai membri di dozzine di sistemi stellari, è riuscita a sopravvivere. L'equipaggio ha portato con sé varie tecnologie evolute, tra cui computer sofisticati, zaini a razzo, pistola a raggi e di ogni presenti moduli da polso che collegano ogni membro dell'equipaggio al computer centrale della Quantum. Da parte sua, il capitano Valgerico e il suo equipaggio sono ben lieti di ingaggiare qualche guida locale durante le esplorazioni mirate a far luce sui misteri dell'universo. Oltre a queste due entusiasmanti nuove case che si uniscono alla lotta per le crypt del crogiolo, Mondi in Collisione continua anche a esplorare il mondo di Keyforge, introducendo nuove meccaniche che aggiungono ulteriormente varietà e altre possibilità di sinergie al gioco. Il primo di questi nuovi concetti è la protezione. Quando una creatura diventa protetta, magari tramite l'uso di tecnologie come un campo di forza o l'abilità di una creatura come la sciamana piumata, non dovete far altro che collocare su di essa un segnalino status protezione. Poi, quando la creatura sta per subire danni o uscire dal gioco, potete semplicemente scartare il segnalino protezione su di essa e la creatura vivrà per combattere ancora. Su una creatura può esserci solo un singolo segnalino protezione alla volta, cosa che consente al nostro avversario di sferrare un secondo attacco su una creatura, se scegli di farlo, ma questa protezione aggiuntiva contribuisce a far pendere la bilancia del potere a vostro favore con il proseguire della competizione. In opposizione a questa meccanica difensiva, Mondi in Collisione introduce anche la possibilità di adirare una creatura, cosa che va indicata a sua volta tramite un segnalino status. Una creatura adirata deve essere usata per combattere, se possibile, e in quel caso da essa vengono rimossi tutti i segnalini ira. È interessante il fatto che le varie case seguono approcci diversi a questa meccanica. Alcune, come le ombre, adirano i loro nemici con carte come colpo fastidioso per distrarli e impedire loro di usare capacità di raccolto o di azione, mentre altre, come i Brobnar, preferiscono utilizzarla per rinforzare i loro stessi guerrieri con preziosi artefatti come il Bastone dell'Ira. Anche se il combattimento è una parte essenziale delle partite di Keyforge, l'elemento più importante del gioco è l'Ember e questo nuovo set vi offre un nuovo modo di mettere in gioco questa preziosa sostanza esaltando le creature. Quando esaltate una creatura, collocate su di essa un Ember presa dalla riserva comune. Proprio come gli Ember catturati, se questa creatura esce dal gioco, l'Ember viene aggiunto alla riserva dell'avversario. Anche se a prima vista questo può sembrare un rischio stupido, le carte in grado di esaltarsi, come per esempio il Paraguardiano, vi forniscono spesso dei potenti benefici quando decidete di farlo, introducendo nel gioco un ulteriore modo di sfidare la fortuna. La capacità ottenuta vale il rischio da correre? La scelta aspetta a voi. Ma oltre alle nuove case e alle nuove meccaniche, Bondi in Collisione offre ai giocatori qualcosa che non si era mai visto prima su questo incredibile pianeta. Sullo strano mondo del crogiolo può accadere di tutto. E accade di tutto. Il flusso della strana energia dell'Ember del pianeta a volte rende reali le fugace visioni di un futuro possibile. Questi fenomeni straordinariamente rari sono noti come anomalie e possono manifestarsi in qualsiasi carta. Per esempio, il tristo Mietitore distrugge senza curarsi della fedeltà a una casa o un Arconte usando la sua terrificante capacità di epurare sia una creatura amica che una creatura nemica ogni volta che raccoglie. Per di più, questo spettro robotico può entrare in gioco pronto se siete tormentati dalla distruzione della vostra squadra, possedendo almeno 10 carte nella vostra pila degli scarti. Non potrete mai sapere quando o dove queste anomalie compariranno. L'unica cosa che potete fare è ampliare il concetto di ciò che ritenevate possibile e abbracciare l'infinito potenziale racchiuso in voi. Questo nuovo set di Keyforge vi offre molti modi diversi di godervi il gioco. Oltre ai singoli mazzi Arconti di mondi in collisione, il set offre anche lo starter set per due giocatori che vi fornisce tutti gli strumenti che vi servono per iniziare o espandere le vostre avventure sul crogiolo, tra cui due mazzi Arconti unici di mondi in collisione, una guida introduttiva, due playmat formato poster e tutte le chiavi, i segnalini e le carte vincoli di cui due giocatori hanno bisogno per iniziare a giocare. Tuttavia, se intendete scoprire da soli il crogiolo avventurandovi nelle sue strane terre o semplicemente cercate dei segnalini extra, ora potete optare per il mazzo Arconti Deluxe di mondi in collisione. Questo mazzo Deluxe è perfetto per chi muove i suoi primi passi nel primo unique deck game al mondo. Esso vi fornisce tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno per iniziare o espandere le sue avventure sul crogiolo, incluso un mazzo Arconti unico di mondi in collisione, una guida introduttiva, una carta vincoli, tre chiavi e tutti i segnalini necessari per dare il via ai vostri scontri cosmici. I giocatori che vogliono portare la loro esperienza di Keyforge a livello successivo potranno invece sperimentare il premium box di Keyforge, mondi in collisione, per custodire tutti i preziosi componenti del gioco in modo sicuro e organizzato. Il premium box contiene due mazzi Arconti unici di mondi in collisione, cinque deck box progettati per contenere i mazzi completamente imbustati, un nuovo indicatore dei vincoli, una serie di segnalini, una scatola dove custodirli e un foglio di adesivi per consentirvi di mostrare orgogliosamente le case di Keyforge che preferite. Con il premium box sarete pronti a tuffarvi con stile nel crogiolo. Una volta scelta l'opzione che fa per voi, sarete pronti a riconquistare il rinnovato mondo del crogiolo nel quarto trimestre del 2019, quando mondi in collisione sarà disponibile presso i rivenditori. Fino ad allora potrete continuare a registrare i vostri mazzi Arconti di ogni set di Keyforge nel Master Vault su keyforgegame.com. Qui potrete registrare i vostri mazzi, seguirne le prestazioni agli eventi, i progressi degli altri Arconti in tutto il mondo e tenervi aggiornati sui tornei e sugli eventi proposti dalla squadra del gioco organizzato di Fantasy Flight Game. Man mano che Keyforge continua a evolversi, Master Vault farà altrettanto. Assicuratevi di restare aggiornati in modo da poter interagire al meglio con la comunità e scoprire quali sorprese hanno in servo per voi gli architetti. Qua poi ovviamente c'è il Cosmo Infinito che vi spiega quello che potete fare per aiutare anche i commercianti che hanno magari una fumetteria nella vostra zona ma non lo andiamo a leggere perché l'importante era leggere tutto questo. Beh, signori, che dire, l'hype è tanto, l'hype è veramente tanto e non vedo l'ora di scoprire cose nuove di questo set. Non vedo l'ora di scoprire cose nuove di questo set e sicuramente porterò un unboxing di questo. Ho visto il costo in dollari e dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 dollari quindi credo che siano almeno un 40-45 euro qui in Italia e mi auguro che questo sia di plastica perché se è di cartone si roviene subito però è bello e quindi vale la pena comprare soltanto questo praticamente. Il kit totale è bello veramente figo poi i deckbox singoli anche sono molto carini e insomma forse per me io li prenderei tutti forse per me io li prenderei tutti tutti quanti tutti e tre i set quindi sia il set un attimo è scritto qua sia lo starter set per due giocatori sia, vabbè, il mazzo Arconte praticamente e lo prendi per forza il mazzo Arconte Deluxe Mondo in Collisione e Premium Box Mondo in Collisione questi tre set uno, due e tre probabilmente li prenderò e ci porterò un unboxing sul canale. Bene, signori l'hype è, ripeto, alle stelle quindi vedremo come si svolgerà il tutto novembre è quasi alle porte visto che oggi è primo agosto quindi novembre è quasi alle porte non vedo l'ora davvero non vedo l'ora ci vediamo nel prossimo video ciao! ciao! Grazie a tutti.